Il piano strategico della città metropolitana di Firenze, documento primario dell'attività dell'ente di area sovracomunale, ha cercato fin dal suo inizio di liberarsi dai vincoli territoriali strettamente locali. Considerato che le tre visioni che danno il nome alle linee di sviluppo, sia accessibilità universale, opportunità diffuse e terre del benessere all'interno del piano stesso, possono avere più ampio respiro se sollevate da un perimetro esclusivamente territoriale. Il confronto con altre aree e poli territoriali è stato il viatico per la stessura e l'aggiornamento del documento. Tra queste il territorio della città metropolitana di Bologna, citato nel testo come area con la quale attivare forme di progettualità condivisa. Non è dunque un caso se nel giugno 2022 le città metropolitane di Firenze e Bologna hanno siglato un accordo di intesa per attivare azioni e strategie di sviluppo e ripresa. C'è da dire che le due metro città avevano già siglato un analogo documento nel 2017. L'attuale protocollo intende dargli seguito anche in virtù delle trasformazioni derivanti dall'emergenza sanitaria e del nuovo quadro di opportunità previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Firenze e Bologna dunque come un'unica area urbana. Un accordo che i due sindaci, Nardella e Lepore, considerano indispensabile per essere competitive con le metro città di Milano e Roma. Messe insieme costituiscono una delle prime tre aree urbane d'Italia. Il protocollo parte dalla considerazione che le città metropolitane rappresentino uno dei fattori essenziali per l'innovazione istituzionale del paese e siano enti territoriali che possono svolgere un ruolo di importante cerniera sociale e politica tra cittadini e istituzioni. Nel caso specifico di Firenze e Bologna, la loro vicinanza di confine è ulteriormente sancita dalle nuove e recenti infrastrutture ferroviarie e autostradali. Tra le due aree metropolitane, il territorio inoltre dell'Appennino tosco-emiliano, visto come cerniera di collegamento strategico tra sistemi ambientali omogenei, valori culturali condivisi, eccellenze paesaggistiche e identità storiche condivise. Obiettivi dell'intesa di durata triennale è l'individuazione degli ambiti di interesse comune su cui sviluppare, nel quadro delle politiche regionali e di scala metropolitana, una piattaforma di progetti che sarà condivisa anche con università, società partecipate e sistemi fieristici. Si punterà inoltre alla condivisione di strategie comuni nell'attrazione di investimenti produttivi e nello sviluppo di piattaforme logistiche, nello sviluppo di relazioni comuni con le altre città europee, anche attraverso la rete di EuroCities. Tra le linee di intervento che saranno portate avanti insieme dalle due metro città, progettazione di grandi eventi, definizione congiunta di programmi fieristici, investimento nel potenziamento delle diverse forme di connessione tra Bologna e Firenze. In tema di mobilità, quella che nel piano strategico della città metropolitana fiorentina viene declinata nella visione dell'accessibilità universale, Bologna sta investendo per una nuova configurazione del nodo autostradale, per un nuovo trasporto pubblico metropolitano e per la realizzazione della bicipolitana, rete ciclabile di 1000 km, al servizio dei comuni metropolitani. Sta inoltre progettando la città 30 diffusa nel capoluogo, oltre a servizi di sharing mobility e l'area verde, per un utilizzo maggiore delle auto a minore impatto ambientale. Firenze ha negli scorsi anni orientato in modo deciso le politiche della mobilità verso l'utilizzo del trasporto pubblico, incrementando la progettazione e realizzazione della rete tramviaria anche a servizio dei principali comuni della prima cintura metropolitana. E ancora il sistema dello sharing mobility elettrico, della mobilità ciclabile, oltre a interventi innovativi come la previsione dello scudo verde e la realizzazione della smart city control room. I due enti ritengono dunque strategico investire nel potenziamento delle diverse forme di connessione tra Bologna e Firenze, per consentire a cittadini, turisti e studenti una fruizione integrata. Centrale in tale processo sarà il rafforzamento del servizio pubblico, anche sperimentando nuove forme di utilizzo dell'idrogeno e la realizzazione di nuove infrastrutture ciclabili. In riferimento alle tranvie, le due città metropolitane proseguiranno con lo scambio di esperienze e dati. Le stesse imprese costruttrici di Firenze lavoreranno anche a Bologna. E ancora sono previste nuove forme di collaborazione in materia di offerta di spettacoli ed eventi, promuovendo un cartellone comune, anche grazie all'attivazione di nuovi collegamenti serali dell'alta velocità, e sperimentando un'offerta museale comune. Bologna e Firenze sostengono, anche attraverso l'organizzazione congiunta di iniziative specifiche, la proposta di legge di iniziativa popolare per la salvaguardia del decoro, della vivibilità e dell'identità dei centri storici. Cambiando argomento, Bologna e Firenze ritengono prioritario promuovere lo sviluppo e rilancio dell'Appennino attraverso progetti integrati, con l'obiettivo di contrastare lo spopolamento e garantirne una fruizione sostenibile. Via degli Dei e Linea Gotica rappresentano esempi di positiva integrazione e sono in fase di definizione ulteriori collegamenti lenti tra due sistemi territoriali. Si condivide in particolare di investire in modo congiunto per il completamento del tratto Bologna-Firenze della ciclovia del Sole e della ciclovia della Lana e della Seta, che da Bologna, una volta raggiunta Prato, porta direttamente nel centro fiorentino.